La serie speciale WOW è la quarta serie di volume che presentiamo su Dacia, dopo il successo di Brave dunque arriva WOW, tanto design in più e tanta tecnologia rispetto alla Stepway che è già una versione alto di gamma che ha tutto, oltre al design chiaramente sexy del crossover. In questo caso colore dedicato, cerchi bitono, stripping sul montante, specchietti e retrovisori dedicati all'interno, sedili con un nuovo look e poi vari elementi di stile, ma anche tanta tecnologia che abbiamo visto su Duster che è un'icona a sé che arriva anche su Sandero come il clima automatico. La nostra clientela è molto razionale, noi parliamo sempre di acquisto intelligente dunque sono anche intelligenti perché comprano veramente la miglior qualità sul mercato a miglior prezzo. La strategia delle serie speciali è quella di aumentare il livello di equipaggiamento all'interno della vettura e riducendo il costo finale della vettura, dando un beneficio cliente molto importante, in questo caso sono 650 euro e 650 euro è il valore di quello che mettiamo su questa vettura e lo facciamo pagare solo 150 permettendo così al cliente di avere 500 euro gratis in tasca. Questa serie limitata è basata sulla Stepway dunque sono 150 euro in più della Stepway che è già una vettura che si vende molto bene per il suo look e chiaramente con un valore di 650 e il prezzo di partenza per la Sandero che forse è la vettura più importante, ricordo che questa serie speciale è su Sandero, l'oggi è Docker ma su Sandero parte da 12 mila euro e la vettura è già ordinabile, già visibile presso le concessionarie, due porte aperte, il weekend del 17 marzo e quello successivo domani.